Emi Basket Gubbio si regala un Natale da favola conquistando la Coppa Umbra. Nello scenario della palestra polivalente scelta dalla federazione regionale per ospitare la Final Four, la compagine di coach Cecchini di fatti mette in atto una due giorni memorabile sulla scia dei recenti successi conquistati nel campionato di prima divisione regionale. Prima la vittoria al Cardiopalma per 59-56 nella semifinale con Atomica Spoleto dopo aver rincorso per quasi tutta la partita fino ad un ultimo quarto regale con il parziale di 16-6 per i bianco-blu. Quindi la finalissima con Marsciano vinta 80-71 dal team Eugubino con 19 punti di Rombi e Ramaglio e 18 di Pallotti. Grande festa alla sirena finale con Capitan Fiorucci che alza la Coppa assieme all'intera squadra e società Eugubina per un trionfo che suggella nel miglior modo possibile l'anno del cinquantennale del Basket Gubbio dopo la vittoria nei play-off di Serie D regionale del maggio scorso.